Petrella, Petrella, Gomez, Gomez e la Tristina cala il poker e impone un severo KO al Legnago Salus. E' la partita che ci voleva e il risultato che serviva per riprendere quota nella classifica del Girone B, dove i Rosso Labardati ora occupano la settima posizione nel folto gruppo delle squadre che si trovano fra le prime dieci. Il Legnago Salus viceversa si trova mischiato nelle parti basse della classifica al sedicesimo posto. Proprio gli ospiti sono i primi ad arrivare in porta dopo dieci minuti con un colpo di testa da azione d'angolo facile preda del portiere dell'Unione Offredi. La Tristina risponde a quarto d'ora e lo fa con l'ultimo innesto del mercato, l'Epore, il quale con una pregevole giocata calcia forte trovando la deviazione del portiere avversario. Gomez scalda il motore con un tiro ravvicinato ma debole dopo la buona torre di Calvano. Il Legnago impegna nuovamente Offredi alla mezz'ora con un nuovo colpo di testa. Ancora un corner per i Giuliani e palla fuori. Petrella al trentaduesimo intercetta un pallone al centrocampo e spara forte col sinistro dalla distanza ma non trova lo specchio. E' il preludio la rete del vantaggio firmata da Petrella che di giustezza trafigge Pizzignacco dopo azione costruita assieme ai compagni. L'Unione spinge, Calvano tira forte e il portiere mette fuori. Poco dopo è l'Epore a calciare dalla distanza col numero uno ospite ancora a mettere una pezza. Si passa il secondo tempo tutti in piedi per la giocata di Mirko Petrella che partendo da centrocampo, complice lo spazio lasciatogli, arriva ai 20 metri scaricando un sinistro poderoso che termina sotto il sette gonfiando la rete del 2-0. Il Legnago reagisce con un ottimo dribbling di Morselli che serve in mezzo dove però non arriva nessuno. Poco dopo azione diversa nella costruzione ma simile nel risultato con la palla che sfila senza correzione del compagno. Per la Triestina è ancora Petrella a dar prurito la difesa ospite ma il suo tiro questa volta è alto. Al Triss invece ci pensa Gomez che al secondo tiro nella stessa azione trova la rete. Il portiere Pizzignacco è stato bravo sul destro dell'attaccante alla Bardato ma nulla ha potuto sul sinistro ravvicinato. Il quarto asso è sempre di Guido Gomez che dopo aver saltato il portiere scarica di forza da poca distanza rendendo vano il tentativo di barriera dei difensori. Alla festa vorrebbe partecipare pure Procaccio ma la sua conclusione è imprecisa. Al 74esimo il Legnago Saldus salva la bandiera grazie al diagonale di Lovisa 4-1. Mensa e Brivio provano la cinquina ma il risultato non cambia. Elegante e grintosa la prova dell'unione che a Rocco ha impostato il proprio gioco e ottenuto una larga vittoria. Bene anche i nuovi innesti, questo successo è interamente dedicato alla memoria di Stefano Furlan.